Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata al regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato dalla Commissione Affari Generali del Comune di Gela che pone la città al primo posto in Sicilia e forse in Italia. Il Comune Gelese è infatti il primo che si adegua alla normativa prevista dalla norma numero 50 del 2016 inserita nel nuovo codice degli appalti. Vediamo. È stato approvato dalla Commissione Generale un regolamento per l'affidamento degli incarichi legali. Il regolamento pone Gela al primo posto in Sicilia e forse in Italia. Il Comune infatti è il primo che si adegua alla normativa prevista dalla norma 50 barra 2016 inserita nel nuovo codice degli appalti. Si tratta di una novità assoluta perché prevede l'istituzione di un albo da parte del Comune suddiviso in cinque fasce civile, penale, amministrativo, lavoro e tributario. Gli incarichi verranno assegnati a rotazione sempre nell'ambito delle fasce che vengono costituite e in ogni caso non vi sarà nessuna disparità di trattamento nei compensi. Spazio anche ai dottori in legge, a coloro cioè che non sono abilitati e che siano iscritti da almeno due anni nell'albo dei patrocinatori legali. Si è arrivati oggi ad un regolamento sui incarichi legali condiviso ampiamente. I principi fondamentali di questo regolamento sono ad oggi la condivisione, la trasparenza e soprattutto anche l'apertura ai patrocinatori. L'obiettivo senz'altro rimane sempre quello da una parte di creare elementi e condizioni di trasparenza ma nello stesso tempo di risparmio economico. Per cui ecco perché in via sperimentale siamo convinti in una fase iniziale, ecco il concetto di sperimentare, di raggiungerlo questo obiettivo. Speriamo di raggiungerlo ecco, riteniamo di sì laddove non fosse possibile verifichiamo sempre insieme al Consiglio Comunale di trovare anche altri elementi, vediamo. Il regolamento è stato condiviso dalla Commissione Generale con l'Amministrazione Comunale e con l'Ordine degli Avvocati. La Commissione è preseduta da Giuseppe Guastella, Vicepresidente Giovanni Panebianco, componenti sono Carmelo Casano, Sara Cavallo e Francesca Caruso. L'ultima parola aspetterà comunque all'assise civica. I nostri giovani colleghi avranno l'opportunità di avere incarichi legali. Nel regolamento è previsto un aumento dei compensi secondo i medi delle tariffe forensi, mentre prima era calcolato ai minimi. C'è l'assicurazione che tutti avranno non solo parità di trattamento nella distribuzione degli incarichi, ma anche nel valore. Quindi significa che tutti avranno medesimi compensi senza nessuna discrezionalità da parte di chi che sia. E' l'assicurazione che verranno tutelati tutti i professionisti gelesi, quindi gli incarichi verranno dati per la maggior parte ai professionisti gelesi, salvo poi dei casi in cui le materie o comunque la professionalità, stiamo parlando di professionità universitaria, lo richieda e solamente in quel caso si potrà ricorrere a professionisti di fuori. Quindi veramente una novità è frutto del lavoro, non solo di questa commissione, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela e dell'amministrazione comunale che ha ben ricepito le nostre osservazioni. Adesso parliamo della scoperta Gela di un sito neolitico. Potrebbe trattarsi, così dicono gli studiosi, di una Stone Age, cioè una pietra calendario. Vediamo di cosa si tratta. Anche la Sicilia ha la sua Stone Age, sembrerebbe proprio di sì. Gela scopre di avere un sito neolitico simile a quello che si trova in Inghilterra, un sito che nel 1988 è diventato patrimonio dell'UNESCO e ora anche Gela ritiene di esserne in possesso. Tre archeologi hanno scoperto una pietra calendario. Si trova a circa 10 chilometri dal centro abitato in contrada Cozzo Olivo, a poca distanza dalle necropoli preistoriche di Grotticelle, Ponte Olivo e di Dessueri. Si tratta di un megalite forato dagli uomini nel periodo preistorico. Risale probabilmente al VI o III millennio a.C., quando esso veniva utilizzato come calendario per misurare le stagioni e i solstilzi, avendo come riferimento i movimenti del sistema astrale. Autori dell'eccezionale ritrovamento, verificatosi durante lo scorso solstilzio d'inverno, sono gli archeologi Giuseppe Laspina, Michele Curto e Mario Bracciaventi, tutti giadesi con il supporto tecnico di Vincenzo Madonia, amici impegnati nel mondo del volontariato o della città di Gela e appassionati di archeologia. La scoperta vera e propria è stata fatta durante il sopralluogo ai bunker antischeggia, le cosiddette case matte del secondo conflitto mondiale, per realizzare dei percorsi di studio da proporre alle scuole del territorio. Laspina si è messo in contatto con Alberto Scuderi, direttore regionale dei gruppi archeologi d'Italia, noto studioso di archeoastronomia, che dal minuzioso rapporto ricevuto ha subito intuito l'importanza del sito, suggerendo di effettuare una verifica scientifica il 21 dicembre scorso, giorno del solstizio d'inverno. L'esperimento è stato effettuato con l'ausilio di bussola a macchine fotografiche di una videocamera installata su un drone. Il successo è totale. Alle ore 7.32 il sole illumina in modo perfetto la pietra forata e mentre il drone si avvicina mantenendo il più possibile l'asse a 113 gradi, viene filmato quel fascio di luce che attraversa il foro e si proietta sul terreno. Adesso ci occupiamo della vicenda che interessa i lavoratori ex reddito minimo di inserimento. Sentiamo il sindaco Domenico Messinese. E' un periodo di transazione che avviene ogni anno. Noi comunque già ci siamo interessati alla fine, al dicembre del 2016 per poter consentire a queste persone che fanno delle attività importanti, nelle scuole, nella manutenzione, servizi alla collettività, di sapere se nel 2017 il progetto veniva riproposto. Abbiamo avuto conferma che già i fondi sono stati stanziati nella finanziaria e che quindi si aspetta adesso da parte degli uffici di Palermo che venga confermato che il progetto venga riavviato per poter consentire a questi lavoratori di potersi occupare dei problemi della città. Inoltre aspettiamo che ci sono novità e che ricordiamo che il reddito minimo di inserimento sono lavori dei lavoratori precari, di capire in base alla nuova legge regionale sui precari quali possono essere le esolte lavorative di queste persone che da più di vent'anni sono messe in una situazione di limbo costante e che ogni anno sono con la spada di Damocle se il progetto viene validato o no. Quest'anno fortunatamente questo problema già in partenza è stato superato perché il progetto verrà riproposto ma sarebbe forse più importante risolverlo definitivamente dandoci quella dignità dei lavoratori che tutti quanti noi spieghiamo. Sono prorogate fino al 28 febbraio prossimo le limitazioni al traffico in vigore sinora per ridurre l'inquinamento atmosferico in via Venezia a Gela. La decisione è stata adottata dal sindaco Domenico Messinese su proposta del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana in attesa di verificare nei prossimi giorni lo stato della qualità dell'aria con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'azienda sanitaria provinciale ai settori all'ambiente del libero consorzio di Caltanissetta e del comune di Gela. L'ordinanza ad orari prestabiliti riguarda soprattutto gli autoveicoli di massa complessiva superiore a pieno carico a 3 tonnellate e mezzo. I mezzi esclusivi sono quelli adiviti al trasporto di persone, al soccorso che svolgono pubblici servizi essenziali. Gianni U dice c'è una crisi galoppante a Gela in merito alla chiusura dello stabilimento. Ci sono mogli di ex operai dell'indotto che piangono. Una disperazione totale purtroppo le chiedo. Ma Gela non potrebbe vivere in alternativa proprio all'occhiusura dell'industria di arte considerato che a Gela abbiamo un patrimonio archeologico di inestimabile valore? Il terziario a Gela potrebbe decollare paradossalmente perché i tesori della città quali i palazzi storici, per esempio il Regina Margherito o il Pignatelli per essere pratici, anziché essere delle strutture recettive per le associazioni di no profit. Si potrebbe fare anche un programma in cui, per esempio, il modello, cito sempre, ma lo faccio da anni, quello di Vittorio Sgarbia Salemi, che ha visto dei palazzi trasformarsi in musei con un risultato straordinario e con poco investimento, con numeri tipo 30.000 visitatori l'anno. Questo consente anche di dare al nostro museo archeologico una sorella, che può essere un museo d'arte moderna, in cui io stesso da anni dico alla politica di impegnarsi a questo progetto, ma purtroppo chi dei politici va nella poltrona, questo non lo attua mai. Vi sono anche delle logiche, mi dispiace dirlo, anche clientelari, perché purtroppo a Gela succede che molte associazioni vogliono spazi di prestigio come questi palazzi. È sbagliato detrarre economia, perché questa economia si detrarre dal momento in cui io occupo uno spazio importante che potrebbe essere il gioiello della città per un destino migliore e quindi dal momento in cui un'associazione entra e richiede anche il contributo del comune è un'economia che detrae. Se questa economia noi la studiamo come dei modelli preesistenti, come in tutte le migliori città d'Italia, in cui certi palazzi sono diventati dei musei, allora si può anche cominciare a ragionare in una redistribuzione. Ecco, quindi il concetto è questo. Ecco, sostanzialmente però lei dice che la politica è sorda, Gela, non ascolta le esigenze. Purtroppo c'è un vezzo, un malcostume in cui l'amministratore spesso, io non voglio creare il capo espiatorio di nessuno. Certo è che ereditiamo un sistema cangrenoso della politica e delle associazioni che chiedono spazi. È giusto che si diano gli spazi, ma è sbagliato che gli spazi siano i luoghi prestigiosi e culturali della città. Purtroppo da noi il malcostume è che l'amministratore deve necessariamente e tecnicamente entrare nelle faccende che non gli riguardano. Le competenze sono quel salvagente che invece potrebbe essere da sponda e da suggerimento circa il risultato che proprio per un settore occorre appunto sentire tecnici ed esperti in tal senso. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 per la pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile recarsi dal 16 al 31 gennaio prossimi presso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana numero 23 oppure chiamando la segreteria al numero 0933 93 83 12. Continua fino a domani nei locali del Palazzo di Città la terza mostra dei presepi. Presepi in comune realizzate dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. L'iniziativa il cui ingresso è gratuito manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco. È presente anche una bancarella di beneficenza del Soroptimist Club di Gela. La mostra può essere visitata dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Domani alle 18 è prevista anche una pesca dell'Epifania. Potrà essere visitato domani il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF Sport Musica Arte e Folklore preseduto da Gaetano Davide Arizzi appuntamento dalle 19.00 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo a Gela. Ciao a tutti e auguri di buon anno. Un augurio sincero. È stato un anno di duro lavoro. Un lavoro però che ci ha permesso di cambiare registro, di invertire la marcia di una macchina che sta mandando di Italia su Burrone e che comincia invece a muoversi nella direzione giusta. Abbiamo fatto un accordo con lo Stato per un miliardo e 600 milioni in più facendo rispettare finalmente dopo tanti anni lo statuto della regione siciliana. Un accordo con il governo nazionale per fare 3 miliardi e 300 milioni di cantieri. Abbiamo fatto una legge per i precari. L'economia riprende più che altrove. Il PIL in Sicilia è l'1,6% a fronte di uno 0,8% nazionale. L'occupazione comincia a crescere. 0,8% in Italia, 2,4% in Sicilia. Stiamo facendo dei progressi. Siamo contenti? No. Abbiamo già fatto una legge per stabilizzare i precari dopo 20 anni. E adesso dobbiamo pensare ad altre cose. Spendere i soldi dei cantieri per fare immediatamente lavoro in tutta la Sicilia, per le imprese, per i giovani e per i disoccupati, avviare i cantieri della programmazione europea, in pratica partire dagli elementi che ci sono di sviluppo per andare avanti, per non tornare indietro, per nuovi traguardi. Il 2017 deve essere l'anno anche in cui parte il progetto per dare ai più poveri una forma di solidarietà. il salario di inclusione per tutte quelle famiglie che hanno meno di 5.000 euro l'anno. Non si può vivere in quelle condizioni. Dobbiamo pensare ai più poveri, dobbiamo pensare alle imprese, sviluppo e solidarietà che debbano andare avanti. Rigore nella spesa, nella lotta agli sprechi e alla corruzione, però rigore senza macelleria sociale. Auguri a tutti i siciliani di cuore per una Sicilia migliore, per una Sicilia che dobbiamo portare avanti, per una Sicilia che si deve riscattare, per una Sicilia che non può essere più quella del passato, ma una Sicilia che campia e io voglio ringraziare tutti voi per avermi dato la possibilità insieme a voi di cominciare questo grande cambiamento della Sicilia. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Ben tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Omini, mezzi, omini, omini, chi è qua, quara, qua? Il titolo del libro scritto da Antonio Candrello che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della biblioteca comunale in via Butera a Gela. Relazionerà via Gopardo. Alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Salinitro e il sindaco Domenico Messinese. Meningite, nessun allarmismo. I dati dell'Istat confermano che i casi registrati sono sovrapponibili a quelli degli altri anni. Non c'è stato infatti un incremento, tranne che in Toscana, dove il numero di meningiti di origine meningococcica sono passati da 16 casi all'anno a 62 e 63 con 13 decessi nel 2015-2016. Diminuiti i casi a Caltanissetta da 13 del 2015 di cui 8 virali e 5 di tipo batterico si è passati nel 2016 a solo 8 casi, 6 virali e 2 batteriche. A darne notizie Alfonso Averna, primario facente funzione dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale Sant'Elia che abbiamo incontrato dopo le continue notizie di nuovi casi riportati dagli organi di informazione. Quello che fa allarmare maggiormente è il meningococco. Meningococco che è un germe di cui esistono 5 ceppi ma quelli che sono maggiormente virulenti e che si trovano maggiormente in Italia sono il ceppo di tipo B e il ceppo di tipo C. Mentre gli altri ceppi, il ceppo A, il ceppo W135 e il ceppo Ipsron, praticamente in Italia non determinano la meningite. L'infezione da meningite avviene attraverso la via aerea. Infatti è stato visto che molti giovani, molti adolescenti, nelle loro prime vie aeree presentano il meningococco che poi attraverso le goccioline di flug, lo starnuto, possono praticamente trasmettere agli altri soggetti. Quindi non c'è allarmismo perché il paziente non si infetta con la meningite attraverso l'ammalato, il malato che ha la meningite, ma si prende la meningite da portatori sani. È difficilissimo invece prendersi la meningite da pazienti che hanno una meningite. Ma se eventualmente uno è stato a stretto contatto con uno di questi pazienti, basta fare una profilassi con antibiotico-terapia specifico consigliato dall'infettivologo. Quindi non c'è allarmismo perché il numero dei casi sono sovrapponibili a quello degli altri anni. Non c'è allarmismo perché eventualmente c'è un caso di meningite si inizia a fare subito la profilassi con l'antibiotico-terapia e quindi uno non si infetta. Poi abbiamo un altro dato importante. Abbiamo i vaccini. I vaccini per quanto riguarda la meningite meningococcica con la copertura di tutti i ceppi di tipo di meningococco. Salutando il Natale, il tema del concerto lirico-sinfonico che si terrà a Gela, sabato 7 gennaio alle 19.30 nella chiesa San Francesco di Paola. L'evento è organizzato dall'orchestra di fiati Francesco Renda con il patrocinio del Comune. In scaletta un vasto repertorio di musica classica che richiama la festa del Natale. Dirigerà l'orchestra il maestro Mirko Musco. E continuano gli appuntamenti inseriti nella 83esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Oggi alle 19.00 nei locali del Palazzo della Cultura principessa Pignatelli Roviano si terrà il concerto con i docenti dell'Istituto Musicale Nova Gelas diretti dal maestro Salvatore Grimaldi. Dovrebbe arrivare la neve anche a Caltanissetta tra giovedì pomeriggio e il giorno dell'Epifania. Lo comunica la protezione civile con una nota diramata a tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti in previsione delle fortenevicate il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo ha predisposto il servizio di spargimento sale. Si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti se non per necessità e in ogni caso di munirsi di catene. Anche a San Cataldo sono stati predisposti appositi i tervizi per evitare al minimo i disagi ai cittadini. Saranno assicurate le emergenze di viabilità nei tratti dove la circolazione è più intensa e di soccorso sociale per chi avesse necessità evitare i da espletare. Al comando di Polizia Municipale sempre a San Cataldo sarà attivata una centrale operativa. il numero di emergenza è lo 0934 51 12 38. Dalle 14 del 5 gennaio sarà attivata anche una sala operativa della Croce Rossa fino a cessate esigenze. I servizi di ambulanze e di unità di strada saranno potenziati. Artisti di strada due live musicali e mercatini della creatività questo e altro domani nell'ambito dell'iniziativa Macchitella in Christmas una festa da non perdere in cui anche più grandi per qualche ora torneranno bambini e la Befana la vecchietta di origini celti che farà un giro e muretti di Macchitella a distribuire caramelle a tutti i bambini per cui sarà allestito un'area giochi. Si comincia alle 10.30 la festa andrà avanti per tutto il giorno l'evento che è patorcinato dal comune di Gela è organizzato dall'associazione Giovani Oltere Ogni Limite presieduta da Salvatore Vasta. C'è l'informazione cinematografica in proiezione alle 17.30 al Cineteatro Antidoto il cartone animato Rock Dog alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione. Domani giorno dell'epifania sempre all'antidoto tutti i bambini potranno vedere gratuitamente il cartone animato Rock Dog appuntamento alle 9.30 e alle 11 alle 16.30 e alle 18 Le Befane accoglieranno tutti i bambini donando caramelle prima del film Bene è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi una buona festa dell'epifania Grazie a tutti Grazie a tutti